La Befana, ai tempi del Covid. Hanno problemi economici in questo periodo ancora di più perché il Covid ha ampliato tutto quanto. Sono intorno ai 100% Praticamente abbiamo una marea di bambini in quarantena che non possono uscire anche i loro genitori. Allora ci siamo organizzati e la Befana arriva a trovare, va a portare i dolci e va a portare i dolci. Però voi non li state sostituendo ai genitori che sono in quarantena, questi regali sono regali per famiglie che hanno difficoltà. Certo, hanno difficoltà, hanno problemi a vivere, in generale hanno problemi economici in questo periodo ancora di più perché il Covid ha ampliato tutto quanto. Quindi è il nostro modo, bambini, che noi ci siamo, per preoccuparci degli altri. E facciamo! E quanti bambini oggi avranno la visita vostra? La Befana sono intorno ai 100 bambini che riceveranno donne e 12. Negli ultimi tre anni, a causa della pandemia, sono aumentati questi bambini? Sono aumentati i cazzi e i difficili, sono aumentate le difficoltà delle famiglie e i bambini, anche in quanto spesso, sono quelli che più di tutti sono. Sono qui. Non è che a Roma? Sare io! 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 Insieme dice quel pecor benissimo! Grazie per la visione! Grazie per la visione!